... Fuori, fuori, non posso fare un altro spettacolo, è tardi, la volete capire? Non posso fare un altro spettacolo, è tasto in cedro, eccetera, nel carità... Reggio, ci sono quelle che l'hanno visto due volte! Non mi fatelo chiaro, non mi fate cadere pure a me! Non mi fate un'ora che siamo qui! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Domani facciamo un altro pallino! Il posto è bellissimo, parola d'onore! Andate a dormire! Nienti in lavoratore! Chiedete, chiedete! Questo è sfascio del paradiso! Non ci fa fermo! Non credo, non credo, non faccio tu! Ma che cosa ci posso fare io? Non lo faccio a mettere il giorno e poi ci hanno mannato via! Una folla non pensa! Non sa quello che fa! Questo lo diceva il grande spingere in furia! Allora, che dici? Ce lo facciamo vedere il film a queste povere pazze? Magari! Ma come? Si può fare? Vedo che voi non volete credere alle mie parole, ma ai vostri occhi dovrete credere! E ora, alza le chiappe da quel dannato sgabbello! Non lo sapete che è gelosissimo? Chi è da sperarlo? Chi è da sperarlo? Chi è armato? Attento! Abracadabra! Guardo dall'olcia parte! Guardi 8 Guardi 8 Avvacciate la finestra e guarda, ragazzo. Mi! Alfredo, è bellissimo! Da lì, da lì! Usce il pantografo! Bravo, Alfredo! Grazie, Alfredo, grazie! Ma che succede? Ma che buono? Quello è un cinema. Vai da fare in dopo. Affetto, non si sente niente. Gli facciamo quest'altro regalo? Sì, sì.